Alla quinta uscita prestagionale è arrivata una sconfitta di misura per il San Tommaso. Sul sintetico del decicco di Pratolaserra, i grifoni si sono infatti arresi per 1-0 contro il brindisi del direttore sportivo Nicola Dionisio. Primo tempo avario di emozioni per il pubblico presente, con l'unico sussulto firmato da Varricchio, che ben imbeccato da un filtrante di tedesco, si è imbolato verso la porta pugliese, trafiggendo il portiere avversario. In uscita, con un preciso diagonale, gioia però strozzata in gola per l'ex Arzachena, giudicato in posizione di fuorigioco dall'assistente. A rientro in campo dall'intervallo è arrivata la rete del brindisi che ha deciso la sfida. All'ottavo, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla destra, si è fatto trovare pronto all'appuntamento con l'incornata Leonardo Granado, che da pochi passi ha gonfiato la rete e portato i suoi in vantaggio. Ha provato la reazione di San Tommaso, non riuscendo però a trovare la zampata vincente, anche per l'assenza del suo faro offensivo, Piotr Branicki. Ad andare vicino al raddoppio in un paio di occasioni è stato il brindisi, la più clamorosa quella partita dal destro di Marino, che da oltre 30 metri, su calcio da fermo, ha scagliato un missile che per fortuna dei Grifoni si è spento sul palo. Può comunque sorridere il mister liquidato, che a poco più di due settimane dalla prima uscita di campionato, ha visto in campo un San Tommaso sicuramente cresciuto sia sotto l'aspetto fisico che sotto quello tattico, giocarsela alla pari con un brindisi che promette di essere una buona protagonista del girone H di Serie D.